Anche dall'inaugurazione dell'anno giudiziario la condanna del complottismo, il riferimento è a quel male molto italiano che fa intravedere dietro i fatti una dietrologia che penalizza i successi e fa serpeggiare i sospetti. Complice il variegato e spesso ammalato mondo dei social, non si riesce quasi mai a festeggiare, c'è sempre qualcosa che noi comuni mortali non conosciamo, la vicenda della guerra d'invasione della Russia, il Covid-19 e ora la cattura del boss mafioso Messina Denaro, soltanto tre esempi. Ma potrei continuare per giorni, chissà che c'è dietro, chissà che c'è sotto e così sul sospetto ingiusto si scaricano i propri insuccessi e le proprie amarezze e i cieli sotto i quali si vive sono sempre plumbei, basterebbe soltanto elevarsi un pochino per scoprire che dietro le nubi c'è l'azzurro, nel caso della cattura di Messina Denaro il successo dello Stato e dei rossi e dei carabinieri di chi in procura ha diretto le indagini dove le sacrosante intercettazioni sono state utilizzate come indizio avvalorato dalle successive verifiche. Ecco, sul grande tema di questi giorni l'invito dovrebbe essere a lavorare tutti per riequilibrare il rapporto tra i poteri dello Stato che ha bisogno estremo di un rapporto armonioso tra potere politico e magistratura per non dare spazio di manovra alle malavite.